Grazie Presidente, questo è un emendamento importante perché intende estendere le attività di somministrazione che possono utilizzare tavoli e sedie a quelle attività per cui è consentita la consumazione al tavolo, appunto la somministrazione prevalente, per i centri sportivi all'interno del perimetro di concessione, per le attività ricettive con autorizzazione per la somministrazione non alloggiati e per le librerie in cui la vendita di libri è prevalente, quindi in realtà si trattano di attività di somministrazione che in questo momento hanno necessità di recuperare i coperti all'interno di edifici che non sono utilizzabili per normative di sicurezza e quindi noi andiamo a compensare con questo emendamento la possibilità di utilizzo di tavoli e sedie. Grazie.